Ancora sopra quota 100 i nuovi contagi da coronavirus nell'area pratese. Nelle ultime 24 ore ne sono emersi altri 121 che portano il totale da inizio epidemia a un passo da 20.000, per la precisione a 19.968. Si registra anche un decesso che fa salire il bilancio a 490. L'ultima vittima è un uomo di 87 anni che era ricoverato all'ospedale Santo Stefano. Questi i numeri principali del bollettino che la regione ha diffuso oggi per fare il punto sull'andamento del covid in Toscana, dove i nuovi casi sono 1.003 e i morti 17, 9 donne e 8 uomini, età media 79 anni. Gli ultimi contagi sono stati rilevati attraverso i 25.000 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Esclusi test di controllo, il tasso di positività è passato da quasi il 12% di ieri al 10,8% di oggi. Continua il calo dei ricoveri, 1.757 i pazienti negli ospedali toscani, 24 in meno di ieri e di questi sono 256 quelli in terapia intensiva. Non vale lo stesso per Prato, tutti occupati i posti dell'area covid del Santo Stefano e delle altre strutture territoriali che complessivamente contano 277 letti, liberi solo due dei 20 posti in terapia intensiva.